Allora, questo è il tranche, quello che abbiamo fatto precedentemente, perché è una bella lavorazione, schifosa. E quindi... ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti 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 Abbiamo appena preso il nostro primo treno sbagliato Ci hanno buttato fuori da un treno Era troppo super lusso Adesso dobbiamo aspettare Questo treno più grosso è lì carico Grazie a tutti 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 Grazie a tutti